Il sabato delle persone adulte sposate, uomini, marite e moglie hanno detto qui ci abitano i ribusciati. Ecco perché c'è questo abbandono. Allora catalogare i residenti di qualsiasi centro cittadino in questa maniera è una cosa bruttissima da parte di donne e di uomini perché anche qui ci abitano donne e uomini. Una frase che ha lasciato davvero il segno ed ora la rabbia è divenuta insostenibile. Siamo in pieno centro storico ad Andrini, via Arco Marchese e via Paradies, cuore pulsante della zona antica cittadina a due passi dal Palazzo Ducale e dalla stradina cosiddetta più piccola del mondo. In pochi metri mondi completamente diversi all'incuria tutta pubblica del Palazzo Ducale, alla cura tutta privata di Antonio e della piazza e della strada che portano la stradina più piccola del mondo. In mezzo le viuzze in cui la maggior parte dei residenti provano a collaborare per tenere tutto pulito e profumato. C'è una perfetta organizzazione con l'impiego di tempo e risorse proprie affinché vi sia igiene e pulizia. Il problema nasce però ogni mattina quando bisogna raccogliere tutta la sporcizia accumulata di sera ma anche blatte e topi che da queste parti spesso fanno capolinea anche perché nessuno interviene per deratizzazione e deblatizzazione. E poi ci sono le case abbandonate in cui l'erba cresce e sono spesso gli stessi residenti ad armarsi di pazienza e di tagliaerbe per pulire. Un grido di aiuto innanzitutto ai cittadini, ai concittadini e agli stessi residenti alla quale chiediamo una grande collaborazione. Non abbandonare l'immondizia perché siamo noi stessi residenti tutte le mattine o quasi a pulire e ci mettiamo l'acqua che è nostra, ci mettiamo i nostri detersivi e ci mettiamo il nostro tempo. Non vogliamo fare minacce, non vogliamo fare guerre, però a volte ci si arrabbia perché è bruttissimo vedere questa situazione. Il centro storico è un luogo ricco di storie e tante opportunità ma i residenti giovani e meno giovani ora sono davvero stanchi di non essere mai ascoltati. Qui dovrebbe passare almeno una volta a settimana qualcuno a lavare le strade e marciapiedi dopo l'avvio del nuovo servizio ma nulla è stato fatto al momento. Qui dovrebbero esserci dei cestini stradali per consentire a tutti di gettare i propri rifiuti visto che comunque tanti ragazzi animano queste vie di sera. Qui dovrebbe esserci un controllo dei tombini da cui le blatte fuoriescono. Insomma la richiesta alle istituzioni è semplice, non abbandonare questo luogo davvero bellissimo. Io sono 25 anni che abito qua e devo dire che i primi anni quando siamo venuti qua ad abitare rompi a cera. C'era comunque strade pulite. Questo è venuto maggiormente negli ultimi anni soprattutto da quando si è creata questa movida al centro. Quindi avere ragazzi che sporcano e non solo perché comunque tra schiamazzi e situazioni caotiche che si creano danno anche fastidio alle persone che ci abitano soprattutto anziani, qualcuno che non sta bene di salute. Bisogna capire che qua questo centro storico è storia è la storia di Andrea. Qualcuno la sottovaluta. E la bellezza poi deve essere valorizzata anche perché qui ci sono pietre come quella ad angolo con viavaglio che hanno quasi duemila anni come ci spiega Michele, attento studioso della storia locale non solo ma quella pietra è stata rovinata dall'azione scellerata dell'uomo. Quella è una pietra riciclata nel tempo del romano, c'è 1800 anni. Quello anno vengono tutti i cari così io parlai, chi ci comanda l'Andrea? Disse due mesi fa, vedi tutta sporchizia al palazzo d'uomo, vengono un turista, che porcheria, vuoi fare cassa il comune? Può fare, la multa, se uno non pulisce la multa, tu fai cassa.